guarda un po' chi c'è, guarda chi c'è, guarda un po' chi c'è l'amico mio, guarda quant'è qua tu, guarda quel burlone, guarda che buffone, ostentatore positivo, sano, mai ma sano, sempre caldo, un po' che niente, e allora vado a cercare fortuna, vado in zona Emanuele Filiberto, vado a cercare il fatturato, un nuovo cliente, e come ci vado, con il parico vintage, un po' fiammato, coca colato, glitterato e anche stellato, non è reato, non è reato, a 38 all'ora non è reato, telefonino in mano, gonciato sul valubrio, dettaglio da non imitare, secondo te sto male, e allora immobilismo male per essere umano, gambe persa e testa funzionano, persone alto in cielo, vivono nella capitale, 5 milioni di abitanti, 5 milioni di potenziali clienti, viva la vita, faccio il lavoro più bello del mondo, almeno a me piace, punto al 200%, non a quello di qualcun altro, coerente, corretto e credibile, sempre, viva la vita, leale soprattutto, bella per te, perché la realtà tra uomini non è negoziabile, non è negoziabile, che ha a che fare soprattutto con uomini nel lavoro, ci sta la variabile, che non è da sfuoco, che manca, manca una variabile, manca il sesso, e allora, se c'è la variabile sesso, tra uomo e uomo, non c'è possibilità, che nemmeno alla realtà, bella per te, a ma paus, viva la vita, urlone!